Vi diamo lettura di un non comunicato stampa a firma del Comune di Trappeto. È di stamane l'approvazione della delibera di giunta con la quale l'amministrazione comunale di Trappeto ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Associazione Progetto Giovani. La stessa verte sulla cooperazione con associazioni ed enti del terzo settore al fine di promuovere attività formative e culturali realizzando interventi formativi di elevata qualità e coerenti con le innovazioni in atto in ambito sociale ed istituzionale. Con l'opportunità di valorizzare e sviluppare una rinnovata professionalità promuovendola e diffondendola adeguatamente nel contesto sociale sviluppando ulteriormente il rapporto tra formazione e territorio in merito all'uso di nuove e specifiche competenze. Più nello specifico si tratterebbe infatti di promuovere un nuovo progetto dal titolo L'arte, la tradizione dei dolci e dei prodotti da forno in Sicilia, inserito all'interno dell'avviso 31 del 2019 Lavoro ed Impresa Artigiana, Donne e Percorsi per l'Inserimento Lavorativo e l'Avvio di Imprese, promosso dal Dipartimento Regionale del Lavoro e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il progetto vedrà impegnate per circa otto mesi, otto donne dai 16 ai 56 anni di età che scelgono di avvicinarsi al mondo dell'artigianato, favorendone l'inserimento lavorativo anche attraverso l'acquisizione delle competenze di base necessarie a misurarsi con il lavoro autonomo e l'avvio di nuove imprese in questo settore. Tre saranno le azioni che distingueranno il progetto. L'azione 1, che è l'orientamento della definizione del percorso formativo e un breve start-up formativo. Azione 2, che prevede la formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio in impresa artigianale. E l'azione 3, che prevede l'accompagnamento alla creazione di impresa. Siamo felici, e parlo anche a nome della mia giunta, di aver accolto questa proposta da parte dell'Associazione Progetto Giovani. Queste sono le prime parole del Sindaco Cosentino, che prosegue. Sarebbe stato deleterio per la comunità che rappresento non offrire questa opportunità di crescita professionale ai miei concittadini. È per noi motivo di orgoglio avere stipulato questo protocollo di intesa con la città di Trappeto. Replica così il responsabile della progettazione dell'Associazione Progetto Giovani, il dottor Pietro Regina, che aggiunge poi, rivolgendosi ai trappetesi, mi fa onore avere un'amministrazione e un sindaco che sono così propensi a seguire le dinamiche evolutive del mondo del lavoro e sociale. E per questo motivo ci impegneremo con la professionalità che ci contraddistingue da oltre vent'anni di attività, affinché questo percorso formativo, prima e di inserimento del lavoro poi, possa iniziare a concludersi nel migliore dei modi, per le discenti che lo intraprenderanno.